Bella ragazzi, qui è il Cina e oggi siamo qui con questo nuovo pack opening del lunedì Mi sentite senza voce perché ovviamente ho partecipato a Luca Comics di cui avrete l'after movie in questa settimana e vi ringrazio tantissimo ringrazio tutti i fan che mi hanno chiesto foto, autografi e hanno comprato anche le mie magliette come potete vedere Prima di incominciare ragazzi, passate dal sito di crediti onefifa.com sotto in descrizione e applicate lo sconto Cina in minuscolo per avere il 5% di sconto Adesso partiamo subito, spero che la fiera del Luca mi abbia portato culo grazie a voi per quanto riguarda i pacchetti di FIFA perché abbiamo giocato tantissimo a FIFA, abbiamo sclerato e tutto quindi vediamo subito Tyson Mamma mia, iniziamo bene ragazzi Comunque credo che dobbiamo trovare Eto' If quindi se dobbiamo trovare Eto' If guarda, spacco tutto se lo trovo anche c'è anche Iguaine e altri però mi sa che non troveremo niente perché siamo sfigati come al solito vi dico che sono gli ultimi FIFA Points poi dopo questi FIFA Points, cioè dopo questo pack opening ricomincerò ad utilizzare i crediti e niente, David Alaba mi porta sempre fortuna a Fellai a Fellai Knocke cioè Barton cioè ma siamo neanche un oro raro neanche un oro raro ragazzi io cosa devo fare? cioè ho pure lo storico in negativo ma cos'è che devo fare? Cabella! to, cabella vediamo quanto vale dai cioè nel senso varrà qualcosa cabella 3000 4000 3000 3000 3000 ok cabella vale 3000 quindi praticamente abbiamo già 3000 crediti più 1000 crediti va bene, perfetto così più crediti accumuliamo più per i prossimi pack opening avrò crediti per farli Iguaine dai se mi trovi qua in IF dai ti prego Zuzzi ma Gomis ancora questo qui che mi perseguitava in FIFA 14 Osvaldo che nel cinema mondiale ha fatto il suo debutto e ha spaccato tutto e Zunzak vabbè questo qua è pure stato tagliato male in Photoshop però fa niente vai tutto al club vai via velocissimi 150 altri 150 points vai così dai ti prego ti prego ti prego non guardo ma perché tutti gli altri youtuber devono trovare tutto? io devo essere l'unico che continua a fare pack opening ogni lunedì e non trova niente cioè zero cioè non trova niente perché guardate che sfiga cioè ditemi voi che cosa devo fare veramente scrivetemi sotto nei commenti che cosa devo fare perché non dai è cioè che cosa ti devo dire? Wosh ma che cazzo ma vaffanculo Wosh 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 ma vaffanbagno va Maxwell e Barrios che è del Ligan Paraguay Montpellier HSC dai andiamo avanti non ho neanche la voce proprio pensavo di aver conservato un po' di voce invece zebra quindi messi dai vai sta dando molto velocemente ma d'altronde va velocemente perché non riusciamo a trovare niente bene adesso adesso non guardo adesso non guardo no perché c'è è inutile è inutile caissero ma chi è sto qui chi è sto qui song song e quello tarocco abbiamo trovato mamma mia che roba vabbè mettiamoci il cuore in pace ragazzi che non troveremo mai niente ho già capito Pedro che non varrà quasi niente però vediamo un attimo vediamo il confrontaprezzo di Pedro 4.000 4.800 4.000 vabbè certa gente lo mette a 6.000 27.000 comunque 4.800 non è male dai non è male però cioè abbiamo scartato già pacchetti da che valgono 7.500 crediti non ne vale la pena a questo punto se troviamo Pedro e quell'altro Pirla cazzo Ilicic mamma mortacci sua morta tacci vi dico che abbiamo ancora 750 points quindi Howard portami fortuna dai con quella faccia da Pirla su portami fortuna Franco Wanderson ma guarda ma guarda che faccia che c'ha Wanderson chi è sto qui questo qui mi fa i computer cazzo vai Ilici c'era pure doppione manco se volessi fare la cacca pupù dai ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego cioè non so se vedete che sto implorando veramente ci sto implorando veramente Gillette ma vaffan bagno va sto implorando sul serio 2000 crediti e poi c'è ancora sto Wanderson oh ma non è anche la voce per reagire muore 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 podolski quanto vale podolski 1300 come non detto ragazzi allora abbiamo ancora due pacchetti io mi sono arreso perché FIFA FIFA quest'anno a parte il primo pacco opening verrà scarriole eculele manga mamma mia questo qua eculele manga è proprio il mio preferito l'ultimo lo apro col naso lo apro col naso e mi giro e me ne vado ragazzi ciao addio niente qui i propri giocatori non si vogliono trovare digne però vabbè ne scartiamo scartiamo l'ultimo solo per voi come sempre con i crediti i primi crediti scartate anche l'altra volta l'avevo fatto Bangura ma questo qui allora quando o anzi quando trovi Bangura che cosa succede che devi fare l'ultimo pacchetto ovviamente e lasciare un like perché se non lasci un like nei commenti sotto che cosa devo fare nel prossimo pack opening succede questo trovi in vila trovi in vila e quindi automaticamente ti viene da scartare l'ultimo pacchetto della vita hai capito? e basta con questo lascio il joystick quel che è cioè vabbè vaffanculo mille crediti in più vabbè ragazzi spero che questo pack opening vi sia piaciuto ovviamente ho fatto molto veloce perché oltretutto è lunedì proprio adesso sono le 12.40 circa quindi ora che lo monto ora che lo carico si fanno le 2 quasi spero di portarvelo per le 2 passate sotto in descrizione dalla pagina di facebook dove ho pubblicato un po' di cose su luca comics sempre in descrizione sito e niente noi ci vediamo mercoledì con il roll to china team ovviamente il vecchio format ragazzi non mi permetterò mai più di cambiare format quindi un saluto dal cina e un caloroso abbraccio a tutti i fan bella lì non riesco neanche più fare questa roba iscriviti al canale a tutti i fan